Voltaire disse che l'uomo più straordinario che la storia registri fu Carlo XII. Io direi l'uomo più straordinario, se accettiamo questi superlativi, fu il più misterioso dei sudditi di Carlo XII, Immanuel Swedenborg. Desidero dire qualche parola su di lui, poi vi parlerò della sua dottrina, che per noi è la cosa più importante. Immanuel Swedenborg nacque a Stoccolma nel 1688 e morì a Londra nel 1772. Una lunga vita, più lunga se pensiamo alle brevi vite di allora. Per poco non giunse ai cent'anni. La sua vita si divide in tre periodi di intensa attività. Ognuno di questi periodi dura, così si è calcolato, 28 anni. All'inizio è un uomo dedito agli studi. Il padre di questo Swedenborg era un vescovo luterano e Swedenborg era stato educato nel luteranesimo, la cui pietra di base, come noto, è la salvezza tramite la grazia, in cui Swedenborg non crede. Nel suo sistema, nella nuova religione che predicò, si parla della salvezza tramite le opere, e queste opere non sono affatto messe o cerimonie. Sono opere autentiche, opere in cui è coinvolto tutto l'uomo, ossia il suo spirito e anche, cosa ancora più curiosa, la sua intelligenza. Ebbene, questo Swedenborg inizia come sacerdote e poi si interessa alle scienze. Lo interessano soprattutto in modo pratico. Si è poi scoperto che precedette molte invenzioni posteriori. Per esempio, l'ipotesi nebulare di Kant e di Laplace. Inoltre, come Leonardo da Vinci, Swedenborg disegnò un veicolo per volare. Sapeva che era inutile, ma ci vedeva il possibile punto di partenza per ciò che oggi chiamiamo aeroplano. Disegnò pure veicoli per muoversi sott'acqua, come aveva previsto Francis Beckham. Poi si interessò, fatto singolare anche questo, di mineralogia. Fu consulente minerario a Stoccolma. Si interessò pure di anatomia e, come Descartes, si interessò al punto preciso in cui lo spirito comunica col corpo. Emerson scrive, devo purtroppo dire che ci ha lasciato 50 volumi. 50 volumi di cui 25 almeno sono dedicati alla scienza, alla matematica, all'astronomia. Rifiutò la cattedra d'astronomia all'università di Uppsala perché respingeva qualsiasi cosa fosse teorica. Era un uomo pratico. Fu ingegnere militare di Carlo XII che li rese onore. Si frequentarono molto questi due uomini, l'eroe e il futuro visionario. Svedenborg ideò una macchina per trasferire le navi a terra durante una di quelle quasi mitiche guerre di Carlo XII di cui ha scritto così bene Voltaire. Trasportarono le navi da guerra per 20 miglia. Più tardi si trasferì a Londra, dove studiò le arti del carpentiere, dell'ebanista, del tipografo, del fabbricante di strumenti musicali. Disegnò anche mappe per i globi terraquei. Fu, insomma, un uomo eminentemente pratico. E ricordo una frase di Emerson. Dice che nessun uomo ebbe una vita più reale di Svedenborg. E' bene che lo sappiamo, che uniamo tutta questa sua opera scientifica e pratica. Inoltre fu un uomo politico, un senatore del regno. A 55 anni aveva già pubblicato circa 25 volumi di mineralogia, anatomia e geometria. Avvenne allora l'evento capitale della sua vita. L'evento capitale della sua vita fu una rivelazione. La ebbe a Londra, preceduta da sogni che sono registrati nel suo diario. Non sono stati pubblicati, ma sappiamo che furono sogni erotici. E poi ci fu la visitazione, che taluni hanno considerato un accesso di follia. Ma la cosa è smentita dalla lucidità della sua opera, perché in nessun momento si ha l'impressione di trovarsi dinanzi a un pazzo. Svedenborg scrive sempre con grande chiarezza, quando espone la sua dottrina. A Londra, uno sconosciuto che l'aveva seguito per strada, entrò in casa sua e gli disse che era Gesù, che la Chiesa stava decadendo, come la Chiesa ebrea quando era apparso Gesù Cristo, e che lui aveva il compito di rinnovare la Chiesa creando una terza Chiesa, quella di Gerusalemme. Tutto ciò pare assurdo, incredibile, ma ci rimane l'opera di Svedenborg. E quell'opera è molto vasta, scritta con uno stile molto sereno. Non discute mai. Ricordiamo quella frase di Emerson quando dice, le argomentazioni non convincono mai nessuno. Svedenborg espone tutto con autorità, con serena autorità. Ebbene, Gesù gli disse che gli affidava la missione di rinnovare la Chiesa e che gli sarebbe stato permesso di visitare l'altro mondo, il mondo degli spiriti, con i suoi innumerevoli cieli e inferni, che aveva il dovere di studiare le sacre scritture. Prima di scrivere alcunché, dedicò due anni allo studio della lingua ebraica, perché voleva leggere i testi originali. Studiò di nuovo i testi e gli parve di trovarvi i fondamenti della sua dottrina, un po' alla maniera dei cabalisti, che nel testo sacro trovano ragioni a ciò che cercano. Consideriamo innanzitutto la sua visione dell'altro mondo, la sua visione dell'immortalità individuale, nella quale è credette e vedremo come tutto si basi sul libero arbitrio. Nella Divina Commedia di Dante, quest'opera letterariamente tanto bella, il libero arbitrio cessa nel momento della morte. I morti vengono condannati da un tribunale e meritano il cielo o l'inferno. Nell'opera di Svedenborg, invece, nulla di tutto ciò avviene. Egli afferma che quando un uomo muore non si rende conto di essere morto, perché tutto ciò che lo circonda è uguale. Si trova in casa sua, i suoi amici si recano a trovarlo, gira per le strade della sua città, non pensa di essere morto. Ma poi comincia a notare qualcosa. Comincia a notare qualcosa che all'inizio lo rallegra e che in seguito lo allarma. Tutto, nell'altro mondo, è più vivido che in questo. Noi pensiamo sempre all'altro mondo in una maniera nebulosa. Ma Svedenborg ci dice che capita tutto il contrario, che le sensazioni sono molto più vivide nell'altro mondo. Per esempio, ci sono più colori. E se pensiamo che nel cielo di Svedenborg gli angeli, in qualsiasi posizione, stanno sempre col viso volto verso il Signore, possiamo pure pensare a una sorta di quarta dimensione. Comunque, Svedenborg ci ripete soprattutto che l'altro mondo è molto più vivido di questo. Ci sono più colori, più forme, tutto è più concreto, tutto è più tangibile che in questo mondo. Al punto che, dice lui, questo mondo, paragonato col mondo che io ho visto nelle mie innumerevoli peregrinazioni per i cieli e gli inferni, è come un'ombra. È come se noi vivessimo nell'ombra. E qui mi viene in mente una frase di Sant'Agostino. Nella Civitas Dei Sant'Agostino dice che senza dubbio il godimento sensuale deve essere più forte in paradiso che non qui, perché è impensabile che la caduta abbia migliorato le cose. E Svedenborg dice lo stesso. Lui parla dei godimenti carnali nei cieli e negli inferni dell'altro mondo e dice che sono molto più vividi di quelli di qui. Che cosa succede quando un uomo muore? All'inizio non si accorge di essere morto, prosegue con le sue solite incombenze. I suoi amici si recano a trovarlo, chiacchiera con loro. E poi, a poco a poco, gli uomini notano allarmati che tutto è più vivido, che ci sono più colori. L'uomo pensa. Io ho sempre vissuto nell'ombra e adesso vivo nella luce. E questo può rallegrarlo per un momento. Poi gli si avvicinano sconosciuti e parlano con lui. E questi sconosciuti sono angeli e demoni. Svedenborg dice che gli angeli non sono stati creati da Dio, che i demoni non sono stati creati da Dio. Gli angeli sono uomini che sono ascesi alla condizione angelicale. I demoni sono uomini che sono discesi alla condizione demoniaca. Sicché l'intera popolazione dei cieli e degli inferni è fatta di uomini e questi uomini sono talora angeli e talora demoni. Ebbene, al morto si avvicinano gli angeli. Dio non condanna nessuno all'inferno. Dio desidera che tutti gli uomini si salvino. Ma nello stesso tempo Dio ha concesso all'uomo il libero arbitrio, il terribile privilegio di condannarsi all'inferno o di meritare il cielo. La facoltà del libero arbitrio, che la dottrina ortodossa interrompe dopo la morte, Svedenborg la protrae sin dopo la morte. Lì c'è una regione intermedia, che è la regione degli spiriti. Gli uomini, le anime di coloro che sono morti, stanno in questa regione e parlano con angeli e con demoni. Allora arriva quel momento che può durare una settimana, un mese, molti anni. Non sappiamo quanto tempo può durare. In questo momento l'uomo decide di essere, o meglio, di riuscire a essere un demonio o un angelo. Nel primo dei casi merita l'inferno, che è una regione di valli e poi di anfratti. Questi anfratti possono essere inferiori e comunicano con gli inferni, oppure superiori e comunicano con i cieli. E l'uomo cerca, intrattiene e segue la compagnia di coloro che più gli piacciono. Se possiede un temperamento demoniaco, preferisce la compagnia dei demoni. Se possiede un temperamento angelico, la compagnia degli angeli. Se desiderate un'esposizione di tutto ciò, sicuramente molto più eloquente della mia, la troverete nel terzo atto di Man and Superman di Bernard Shaw. È curioso che Shaw non menzioni mai Swedenborg. Io credo che Shaw l'abbia conosciuto attraverso Blake o attraverso la sua stessa dottrina, perché nel sistema di John Tanner c'è tutta la dottrina di Swedenborg, senza che si faccia mai cenno al suo nome. Non credo che si tratti di un atto di disonestà da parte di Shaw, ma piuttosto che lui sia giunto a credervi sinceramente. Credo che Shaw sia giunto alle stesse conclusioni attraverso William Blake, che espone la dottrina della salvezza che Swedenborg aveva predetto. Bene, l'uomo parla con gli angeli, l'uomo parla con i demoni, e si sente più attratto dagli uni o dagli altri, secondo il suo temperamento. Coloro che si condannano all'inferno, visto che Dio non condanna nessuno, si sentono attratti dai demoni. Ebbene, che cos'è l'inferno? L'inferno, secondo Swedenborg, possiede vari aspetti. L'aspetto che può avere per noi o per gli angeli è fatto di zone pantanose, zone in cui vi sono città che sembrano distrutte dagli incendi, ma lì i reprobi si sentono felici. Si sentono felici a maniera loro, ossia sono colmi d'odio e non c'è un monarca in questo regno. Stanno continuamente cospirando gli uni contro gli altri. È un mondo di bassa politica, di cospirazione. Questo è l'inferno. Poi c'è il cielo, che è il contrario, l'antitesi simmetrica dell'inferno. Secondo Swedenborg, e questa è la parte più ardua della sua dottrina, ci sarebbe un equilibrio tra le forze infernali e le forze angeliche, necessario affinché il mondo sopravviva. In questo equilibrio è sempre Dio a comandare. Dio lascia che gli spiriti infernali stiano nell'inferno perché nell'inferno sono felici. E Swedenborg ci riferisce il caso di uno spirito demoniaco che sale in cielo, aspira alla fragranza del cielo, ascolta le conversazioni in cielo e tutto gli pare orribile. La fragranza gli pare fetida, la luce gli pare nera. Allora ritorna all'inferno perché solo all'inferno è felice. Il cielo è il mondo degli angeli e Swedenborg aggiunge che tutto l'inferno possiede la forma di un demonio e il cielo la forma generale di un angelo. Il cielo è fatto di società d'angeli e lì risiede Dio e Dio è rappresentato dal sole. Sicché il sole corrisponde a Dio e i peggiori inferni sono quelli occidentali e quelli del nord. Al contrario, a est e a sud gli inferni sono meno rigidi. Nessuno vi è stato condannato. Ognuno cerca il luogo che desidera, i compagni che desidera e li cerca secondo l'istinto che ha dominato la sua vita. Coloro che giungono in cielo hanno un'idea errata. Pensano che in cielo pregheranno di continuo e viene loro permesso di pregare, ma in capo a pochi giorni o settimane si stancano. Si accorgono che quello non è il cielo. Poi adulano Dio, lo lodano. A Dio non piace essere adulato e anche questa gente si stanca di adulare Dio. Poi pensano di poter essere felici parlando con i loro cari e dopo un certo periodo capiscono che i loro cari e gli eroi illustri possono essere noiosi nell'altra vita quanto in questa. Si stancano di tutto e allora entrano nell'autentica opera del cielo. E qui mi viene in mente un verso di Tennyson. Dice che l'anima non desidera dorati sedili. Semplicemente desidera che le diano il dono di continuare e di non interrompersi. Il cielo di Swedenborg è quindi un cielo d'amore e, soprattutto, un cielo di lavoro, un cielo altruista. Ogni angelo lavora per gli altri. Tutti lavorano per gli altri. Non è un cielo passivo e non è neppure una ricompensa. Se si possiede un temperamento angelico, si ottiene questo cielo e vi si sta a proprio agio. Ma c'è un'altra differenza molto importante nel cielo di Swedenborg. Il suo è un cielo eminentemente intellettuale. Swedenborg racconta la storia, patetica, di un uomo che nella sua vita si è proposto di guadagnarsi il cielo. Allora ha rinunciato a tutti i piaceri sessuali. Si è ritirato nella Tebaide. Lì si è astratto da tutto. Ha pregato. Ha supplicato il cielo. Ossia si è impoverito. E quando muore cosa succede? Quando muore arriva in cielo e nel cielo non sanno cosa farsene di lui. Cerca di seguire le conversazioni degli angeli. Ma non ci riesce. Cerca di imparare le arti. Cerca di ascoltare tutto. Cerca di imparare tutto e non ci riesce. Perché si è impoverito. È semplicemente un uomo giusto e mentalmente povero. E allora gli concedono in dono di proiettare un'immagine. Il deserto. nel deserto pregava come pregava sulla terra. Ma senza staccarsi dal cielo. Perché lui sa che si è fatto indegno del cielo mediante la sua penitenza. Perché ha impoverito la propria vita. Perché si è negato ogni piacere della vita. Il che è un male. Questa è un'innovazione di Svedenborg. Perché si è sempre pensato che la salvezza fosse di carattere etico. Si pensa che se un uomo è giusto si salva. Il regno dei cieli e dei poveri di spirito, eccetera. E quanto afferma Gesù. Ma Svedenborg va oltre. Dice che questo non basta. Che un uomo deve salvarsi anche intellettualmente. Lui si immagina il cielo soprattutto come una serie di conversazioni teologiche fra gli angeli. E se un uomo non riesce a seguire queste conversazioni è indegno del cielo. Sicché deve vivere da solo. E poi verrà William Blake che aggiunge una terza salvezza. Dice che possiamo, che dobbiamo, salvarci anche tramite l'arte. Blake spiega che anche Cristo fu un artista, visto che non predicava per mezzo di parole ma di parabole. E le parabole sono, naturalmente, espressioni estetiche. Ossia, la salvezza è raggiungibile tramite l'intelligenza, l'etica e l'esercizio dell'arte. E qui è bene ricordare anche alcune delle frasi in cui Blake ha, in qualche modo, moderato le lunghe sentenze di Swedenborg. Quando dice, per esempio, lo stupido non entrerà in cielo per santo che sia. O, bisogna scartare la santità. Bisogna investirsi di intelligenza. Sicché ci sono questi tre mondi. C'è il mondo dello spirito. E poi, dopo un certo periodo, un uomo ha meritato il cielo. Un altro ha meritato l'inferno. Anche l'inferno è retto da Dio, che ha bisogno di questo equilibrio. Satana è semplicemente il nome di una regione. Il demonio è semplicemente un personaggio mutevole, visto che l'intero mondo dell'intelletto è un mondo di cospirazioni, di persone che si odiano, che si raggruppano per attaccare un altro. Poi Swedenborg parla con diverse persone in paradiso come nell'inferno. Tutto ciò gli è permesso perché deve fondare la nuova chiesa. E che cosa fa Swedenborg? Non predica, pubblica libri, anonimamente, scritti in un sobrio e arido latino. E diffonde questi libri. Così trascorrono gli ultimi trent'anni della vita di Swedenborg. Vive a Londra. Conduce una vita molto semplice. Si ciba di latte, pane, legumi. Ogni tanto arriva un amico dalla Svezia e allora si prende qualche giorno di libertà. Quando si era recato in Inghilterra aveva voluto conoscere Newton perché gli interessava molto la nuova astronomia, la legge di gravità. Ma non era mai riuscito a conoscerlo. Si interessò molto della poesia inglese. Nei suoi scritti menziona Shakespeare, Milton e altri. Li elogia per la loro immaginazione. Quest'uomo aveva quindi senso estetico. Sappiamo che quando girava per il mondo, perché viaggiò in Svezia, Inghilterra, Germania, Austria, Italia, visitava le fabbriche, i quartieri poveri. Gli piaceva molto la musica. Era un gentiluomo di quell'epoca. Divenne anche un uomo ricco. I suoi servitori alloggiavano al pian terreno della sua casa, a Londra. La casa è stata demolita da poco. E lo vedevano conversare con gli angeli o discutere con i demoni. Parlando non volle mai imporre le proprie idee. Naturalmente non permetteva che si burlassero delle sue visioni. Ma non voleva neppure imporle. Tentava semmai di allontanare la conversazione da questi argomenti. C'è una differenza essenziale fra Svedenborg e gli altri mistici. Nel caso di San Giovanni della Croce abbiamo descrizioni molto vivide dell'estasi. E l'estasi viene riferita in termini di esperienze erotiche o con metafore del vino. Per esempio, un uomo che incontra Dio, e Dio è uguale a se stesso, è un sistema di metafore. Nell'opera di Svedenborg, invece, non c'è nulla di tutto questo. È l'opera di un viaggiatore che ha percorso terre sconosciute e che le descrive in modo sereno e minuzioso. Per questo la sua lettura non è propriamente dilettevole. È stupefacente e gradualmente dilettevole. Io ho letto i quattro volumi di Svedenborg che sono stati tradotti in inglese e pubblicati dalla Everyman's Library. Mi hanno detto che esiste una traduzione spagnola, una scelta pubblicata dall'editoria nazionale. Ho visto degli appunti stenografici di tutta quella splendida conferenza di Emerson. Emerson ha tenuto una serie di conferenze su uomini rappresentativi. Aveva scelto Napoleone o l'uomo di mondo, Montaigne o lo scettico, Shakespeare o il poeta, Goethe o l'uomo di lettere, Svedenborg o il mistico. È stata questa la prima introduzione che io ho letto all'opera di Svedenborg. Questa memorabile conferenza di Emerson non è, però, del tutto d'accordo con Svedenborg. C'era qualcosa che li ripugnava. Forse il fatto che Svedenborg fosse così minuzioso, così dogmatico, perché Svedenborg insiste più volte sui fatti. Ripete la stessa idea. Non cerca analogie. È un viaggiatore che ha percorso un paese molto strano, che ha percorso gli innumerevoli inferni e cieli e che ne riferisce. E ora passiamo a un altro tema di Svedenborg, la dottrina delle corrispondenze. A mio avviso ideò queste corrispondenze per basare la sua dottrina sulla Bibbia. Lui dice che ogni parola della Bibbia ha almeno due sensi. Dante credeva che ci fossero quattro sensi per ogni passo. Tutto deve essere letto e interpretato. Per esempio, se si parla della luce, la luce è per lui una metafora, simbolo evidente della verità. Il cavallo significa l'intelligenza, perché il cavallo ci trasporta da un luogo all'altro. Svedenborg organizzò tutto un sistema di corrispondenze. In questo assomiglia molto ai cabalisti. In seguito giunse all'idea secondo cui nel mondo tutto si basa su corrispondenze. La creazione è una scrittura segreta, una criptografia che dobbiamo interpretare. Tutte le cose sono in realtà parole, tranne le cose che non riusciamo a intendere e che prendiamo alla lettera. Ricordo quella terribile frase di Carlyle che aveva letto non senza profitto Svedenborg e che dice «La storia universale è una scrittura che dobbiamo leggere e scrivere di continuo». Ed è vero. Noi stiamo assistendo di continuo alla storia universale e ne siamo gli attori. E anche noi siamo lettere. Anche noi siamo simboli. Un testo divino nel quale ci scrivono. A casa io ho un dizionario di corrispondenze. Si può cercare qualsiasi parola della Bibbia e vedere qual è il senso spirituale che Svedenborg le ha dato. Lui naturalmente credette soprattutto alla salvezza tramite le opere. Nella salvezza tramite le opere non solo dello spirito ma anche della mente. Nella salvezza tramite l'intelligenza. Il cielo per lui è innanzitutto un cielo di lunghe considerazioni teologiche. Gli angeli soprattutto vi conversano. Ma il cielo è anche colmo d'amore. In cielo il matrimonio ha ammesso. E ha ammesso tutto ciò che esiste di sensuale in questo mondo. Svedenborg non vuole negare né impoverire alcunché. Attualmente esiste una chiesa svedenborgiana. Mi pare che in qualche posto degli Stati Uniti ci sia una cattedrale di cristallo. E possiede qualche migliaio di discepoli negli Stati Uniti, in Inghilterra, soprattutto a Manchester, in Svezia e in Germania. So che il padre di William e Henry James era svedenborgiano. Io ho incontrato degli svedenborgiani negli Stati Uniti, dove c'è una società che continua a pubblicare i suoi libri e a tradurli in inglese. È curioso che l'opera di Svedenborg, sebbene sia stata tradotta in molte lingue, persino in hindu e in giapponese, non abbia esercitato un'influenza maggiore. Non si è giunti a quel rinnovamento che Svedenborg desiderava, perché lui intendeva fondare una nuova chiesa, che sarebbe stata per il cristianesimo quello che la chiesa protestante era stata per la chiesa di Roma. Non credeva in parte né all'una né all'altra. Tuttavia non esercitò quella vasta influenza che avrebbe dovuto esercitare. Io credo che tutto questo faccia parte del destino scandinavo, nel quale pare che ogni cosa succeda come in un sogno e in una sfera di cristallo. Per esempio, i vichinghi scoprono l'America diversi secoli prima di Colombo e non succede nulla. L'arte del romanzo viene inventata in Islanda con la saga e quest'invenzione non si diffonde. Ci sono personaggi che dovrebbero essere di portata mondiale. Carlo XII, per esempio, ma si pensa sempre ad altri conquistatori che hanno compiuto imprese militari forse inferiori a quelle di Carlo XII. Il pensiero di Svedenborg avrebbe dovuto rinnovare la chiesa nel mondo intero, ma fa parte di questo destino scandinavo che è come un sogno. So che nella Biblioteca Nazionale c'è un esemplare del cielo, dell'inferno e delle loro meraviglie. Ma in certe librerie teosofiche non si trovano opere di Svedenborg. Tuttavia, si tratta di un mistico molto più complesso degli altri, i quali ci hanno detto soltanto di aver esperimentato l'estasi e di aver tentato di comunicare l'estasi persino in modo letterario. Svedenborg è il primo esploratore dell'altro mondo, l'esploratore che dobbiamo prendere sul serio. Nel caso di Dante, il quale ci offre pure lui una descrizione dell'inferno, del purgatorio e del paradiso, capiamo subito che si tratta di una finzione letteraria. Non possiamo credere realmente che tutto ciò che racconta si riferisca a un'esperienza personale. Inoltre, c'è il verso che lo ostacola. Non avrebbe potuto sperimentare il verso. Nel caso di Svedenborg abbiamo una lunga opera. Abbiamo libri come La religione cristiana nella provvidenza divina e soprattutto quel libro sul cielo e sull'inferno che io raccomando a voi tutti. Questo libro è stato tradotto in latino, inglese, tedesco, francese e credo anche in spagnolo. Lì si espone con grande lucidità la dottrina. È assurdo pensare che l'abbia scritto un pazzo. Un pazzo non avrebbe potuto scrivere con quella chiarezza. Inoltre, la via di Svedenborg mutò, nel senso che abbandonò tutti i suoi libri scientifici. Pensò che gli studi scientifici fossero stati soltanto una preparazione divina per affrontare le altre opere. Si dedicò a visitare i cieli e gli inferni, a parlare con gli angeli e con Gesù e poi a riferirci tutto questo in una prosa serena, in una prosa soprattutto lucida, senza metafore né esagerazioni. Ci sono molti aneddoti personali memorabili, come quello che vi ho già raccontato dell'uomo che vuole meritare il cielo, ma che riesce soltanto a meritare il deserto perché ha impoverito la propria vita. Svedenborg ci invita tutti a salvarci attraverso una vita più ricca, a salvarci attraverso la giustizia, attraverso la virtù e attraverso l'intelligenza anche. E poi verrà Blake, il quale aggiunge che l'uomo, per salvarsi, deve anche essere un artista, una triplice salvezza quindi. Dobbiamo salvarci tramite la bontà, tramite la giustizia, tramite l'intelligenza astratta e poi tramite l'esercizio dell'arte. 9 giugno 1978